Da martedì 22 novembre sarà possibile fare domanda per ricevere aiuto a fondo perduto per i titolari dei ristoranti, bar, piscine e catering. Sono infatti pronti il modello e le istruzioni per coloro che intendono richiedere i contributi destinati a questi settori in difficoltà dal decreto sostegni IBIS. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le regole per presentare la domanda e stabilisce il calendario per l'invio. Da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre le imprese richiedenti devono avere registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione è possibile utilizzare anche un software di mercato che rispetti le specifiche tecniche emanate con il provvedimento, inviando la domanda tramite i canali telematici Entrate o Fisco Online dell'Agenzia. L'istanza può essere trasmessa, come detto, a partire dal 22 novembre e fino al prossimo 6 dicembre 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Possono richiedere il contributo le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici a Teco 2007. Ristoranti, bar, gestore di piscine, catering per eventi, organizzazioni di feste e cerimonie che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, invece, la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivo a quello di apertura della partita IVA. Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia. Il contributo sarà accreditato, infine, direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza.